I pubblici esercizi sono sempre più in rosa. In provincia di Padova tre titolari su dieci sono donna, sono donne oltre il 50% dei collaboratori. Donne sempre più soggette a forme di maleducazione che sforciano in vere e proprie molestie. Da qui la realizzazione di un corso di autodifesa preparato in collaborazione con la Questura con personale della Polizia. I pubblici esercizi sono aperti 24 ore su 24 a turno. È sempre una luce accesa in ogni quartiere. Per questo abbiamo anche noi bisogno di una sicurezza. Ecco perché per fortuna è il primo passo concreto nella difesa nostra. Quest'ora si è reso disponibile a organizzare il primo corso di autodifesa personale all'interno della palestra della squadra mobile di Padova. tenuto dal personale della Questura, rivolto ai pubblici esercizi di Padova e provincia. Durante il corso le donne si metteranno in gioco comprendendo sia i campanelli d'allarme, sia le prime tecniche di difesa da atteggiamenti molesti sempre più frequenti. Si parte dalla parola buttata lì, che dopo viene ripetuta, insistito, la pacca, il contatto fisico. Insomma sono tanti piccoli gesti e parole fastidiose che mettono anche molto spesso in imbarazzo l'esercente stesso. Potrebbero arrivare fino a 200 le adesioni al corso che si terrà subito dopo Pasqua.